Essere nazionale è una cosa bellissima, fin da quando ero piccola, come ho cominciato a giocare, per me il sogno è sempre stato di arrivare qua. Cantare l'inno, essere lì è veramente una cosa emozionante, speciale. Il paleggiatore è il ruolo più importante che c'è in squadra, perché tocchi sempre tutte le palle, passa tutto da te, quindi ogni punto è emozionante, che sia all'inizio alla fine, poi ovviamente l'ultimo è il più bello. Bellissima giocare un mondiale in Italia, in casa nostra, e sarebbe altrettanto bello avere il calore di tutta la gente che viene a vederci e a sostenerci, perché è una competizione veramente importante. Comunque giocare, sentire il calore del pubblico che c'è, che ti incita, che ti aiuta, ti dà sempre quella marcia in più. Se tutte le stati sono impegnate con la nazionale, sono la persona più felice di questo mondo, cioè preferisco assolutamente stare in ritiro che stare in mare o in vacanza, sono appassionata. Ho un pastore australiano che si chiama Macchia, che ha tre anni. Lui è la mia mascotte, lui viene a tutte le partite, quando gioco con la nazionale viene con l'abbandona dell'Italia. Quando sono all'estero in Giappone noi ci guardiamo anche su Skype. Io gli parlo, lui mi ulula, mi guarda, mi vede, noi abbiamo proprio un rapporto speciale. Poi quando sono a casa gli ho insegnato a giocare a pallavolo, io palleggio e mi me la ridà col naso. Dei, tre, quattro!